La curva nord dello stadio Arechi sarà pienamente fruibile dai tifosi della Salernitana dalle prime partite del prossimo campionato, che si spera sarà ancora una volta di Serie A, con il contestuale trasferimento dei supporters delle squadre ospiti in uno spicchio del settore distinto. La notizia è riportata dal quotidiano La Città ed è emessa ieri al margine del nuovo Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza che si è tenuto in prefettura a Salerno proprio per discutere del futuro del settore del principe degli stati nel corso della riunione fissata nei giorni scorsi. I delegati degli organi di sicurezza hanno quindi riferito delle loro analisi rispetto alla proposta tecnica presentata dall'amministrazione comunale, rappresentata nel summit dal sindaco Vincenzo Napoli, dal responsabile degli impianti sportivi Luigi Mastandria e dall'assessore Michele Brigante, per la modifica del posizionamento degli spettatori all'interno della Reghi. Un progetto di massima che necessita, secondo quanto emerso dall'incontro, di alcuni accorgimenti, alcuni miglioramenti in particolare per quanto riguarda la viabilità esterna e alcune strutture interne allo stadio, come le barriere di separazione tra i nuovi settori ospiti e il resto dei distinti. Il progetto, in questo caso, verrà presentato entro due settimane. Poi, l'anno prossimo, lo stadio Rechi sarà ancora più pieno di tifosi granata per incitare le geste dei propri beniamini. Grazie a tutti!